Viale Asiago non trova pace, una strada sempre più pericolosa, prima a causa della velocità, ora per un nuovo disegno della viabilità stradale. Una via trafficata larga pochi metri, un doppio senso di marcia accompagnato da una pista ciclabile a ambo i lati che costringe gli automobilisti a manovre pericolose. Una pista ciclabile questa che lascia perplessi molti cittadini, come vedete le macchine quando passano in senso opposto per non scontrarsi devono invadere la pista ciclabile che è stata posizionata esattamente all'estremità di ogni carreggiata. Spazio di manovra che sembra non essere sufficiente soprattutto in presenza di biciclette lungo la pista ciclabile. Come vedete per esempio qui c'è una bicicletta che sta passando, sta passando anche una macchina, vedete che sta andando proprio sulla pista ciclabile per evitare la macchina che viene dal senso opposto. Ragazzi che pedalano ogni giorno fino al parco, anziani in sella la loro bici per andare a fare la spesa, ma anche tanti cicliste amatoriali. Immagini queste che lasciano spazio solo ad una domanda, perché?